Se il leggero calo dei malati e dei ricoveri registrato negli ultimi giorni ha fatto tirare un sospiro di sollievo, un'ulteriore novità desta altre preoccupazioni sul fronte della lotta alla pandemia in Puglia. E' arrivata infatti la conferma dei primi casi di contagio da variante indiana accertati nella regione. Quello che sino a qualche giorno fa era solo un sospetto è diventato certezza a seguito del sequenziamento del virus da parte dell'Istituto Zoproofilattico di Puglia e Basilicata, che ha sede a Putignano. I primi due a risultare positivi alla nuova variante del Covid, che sta colpendo pesantemente il paese indiano con migliaia di nuovi infetti e di morti al giorno, sono stati due cittadini stranieri residenti in provincia di Lecce, rientrati la scorsa settimana da un viaggio in India a Nuova Delhi. All'arrivo in Italia sono risultati negativi al virus, ma hanno sviluppato nei giorni successivi i sintomi della malattia. Così sono stati sottoposti a tampone molecolare, che ha confermato la loro positività. Il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce, che da giorni sta seguendo la vicenda, avrebbe inoltre individuato anche un terzo caso, mentre dieci persone, attualmente in quarantena, sono sotto osservazione. La notizia della variante inglese in Puglia è stata ufficializzata anche dall'assessore regionale alla salute, l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, che ha comunque voluto rassicurare tutti circa la gestione dei nuovi casi di variante indiana. Tutti i contatti dei contagiati sono stati già individuati dal Dipartimento di Prevenzione della Regione Puglia e messi in quarantena, ha dichiarato Lopalco. È molto importante aver isolato il virus perché questo permetterà di approfondire gli studi sulla capacità dell'immunità vaccinale di bloccare anche questa variante. La Puglia, ha anche annunciato l'assessore, metterà a disposizione della Comunità Scientifica Internazionale, il virus isolato in laboratorio.